Non abbiamo antinfluenzali per gli aretini, fondamentali anche per la diagnosi del covid. A lanciare l'allarme vaccini antinfluenzali e Federpharma c'era tutto il tempo per organizzarsi al meglio, spiega Roberto Giotti, presidente aretino dell'associazione, ma la catena governativa e istituzionale che doveva fare in modo di garantire a tutti l'accesso alle vaccinazioni anche a pagamento non ha funzionato, si è inceppata e ora noi farmacisti siamo in trincea. Sottoposte alle quotidiane e insistenti comprensibili richieste dei cittadini, non sappiamo come dare risposte ai nostri assistiti. Ci vorrebbe una svolta operativa che aspettiamo al più presto possibile. Una situazione delicata dunque in un anno in cui la vaccinazione antinfluenzale è molto più necessaria del solito. È infatti fondamentale per agevolare la diagnosi differenziale del covid-19 con l'influenza stagionale. Il presidente chiede che venga riattivata al più presto la catena logistica appropriata e che il commissario straordinario e i nostri governanti si mettano all'opera rapidamente per ottenere le dosi necessarie.